Siamo qui con Silvia Pagnan, la titolare del gruppo Isa Holidays, che ha tre villaggi, Isa Mar, Isa Residence e Barricata. Che cos'è Isa Holidays? Isa Holidays è un brand che abbiamo creato qualche anno fa, che riunisce appunto queste tre strutture, questi tre villaggi vacanza. È una vacanza al mare, però in territori con una forte connotazione paesaggistica, naturalistica. Il target è quello della famiglia con bambini. Vorrei sapere qualcosa a proposito della cucina e dell'enogastronomia. Beh, la cucina è un tema fondamentale per noi, perché ci troviamo in due territori, che sono quello di Chioggia da una parte per due strutture e quello del Parco del Delta del Po dall'altro, che sono ricchissimi di tradizioni anche enogastronomiche. Ci sono molti prodotti a chilometri zero, presidi slow food, il pesce di Chioggia che è rinomatissimo, conosciutissimo. Quindi tutti questi prodotti tipici vengono da noi riproposti in una serie di ricette preparate dai nostri chef nei ristoranti dei villaggi. Sport e natura sono due concetti fondamentali nella vacanza esa holidays. Natura perché ci troviamo sempre in contesti paesaggistici particolari. Abbiamo un vero e proprio centro ippico nei villaggi di Chioggia e un ranch nel villaggio Barricata, oppure il diving che permette ai nostri ospiti di andare alla scoperta del mondo sommerso, anche dell'Alta Adriatico che riserva comunque delle belle sorprese. Ci sono tante cose anche lì da vedere. Barricata si trova sul delta del Po, è un posto immerso nella natura in fianco alla sacca degli Scardovari e parco del delta del Po che è patrimonio dell'UNESCO. La differenza fra i due è che proprio per Barricata si punta a creare una vacanza tra virgolette biologica più avvicinata alla natura. Disponiamo di un maneggio che organizza delle passeggiate a monta americana in mezzo alla spiaggia e tutto l'intorno, il territorio di campagna e mare che abbiamo lì in fianco. Abbiamo delle bellissime esclusioni puntate sulla bicicletta. Abbiamo delle strutture delle uniti abitative che dedicano proprio il loro essere alla natura. Disponiamo di un villaggio ex nuovo tra l'altro di 56 lodge stand molto bello. Sono tende safari di modello safari che offrono proprio la possibilità e l'esperienza di vivere in mezzo a quella che è veramente la natura e garantiscono una fantastica sociabilità. Quindi puntiamo moltissimo sull'animazione, puntiamo moltissimo sui servizi che offriamo e puntiamo a far conoscere questo territorio perché il territorio del Delta del Po, che assomiglia molto alla Camargo francese, è quello che noi vogliamo lanciare perché secondo noi ha un grandissimo potenziale e stiamo puntando appunto a quello di riuscire a creare un via vai di persone per farlo conoscere meglio insomma. Grazie a tutti!